Bene, concludiamo oggi l'analisi, insomma, le quattro equazioni di Maxwell e ne vediamo le conseguenze. Fatemi scorrere rapidamente quanto abbiamo visto in precedenza. La prima riguarda il flusso del campo elettrico, la legge di Gauss e la relazione che lega il campo elettrico alle sue sorgenti. Quindi il flusso del campo elettrico E attraverso una superficie chiusa, scusate, S, è dato dal rapporto tra la carica totale interna alla superficie diviso la costante dielettrica, che è ε0, quella del vuoto, per εr, quella relativa del mezzo, se non siamo nel vuoto. D'accordo? Questo sta a indicare il fatto che se, ad esempio, la nostra sfera, la superficie gaussiana, è priva di carica all'interno, il flusso sarà nullo anche se il campo non lo è. Quello che è importante è quanta carica c'è all'interno di quella sfera. Cosa analoga per il campo magnetico? Qui, diversamente dal caso elettrico, in cui il flusso può essere o può non essere nullo a seconda di quanta carica c'è all'interno, dato che il campo magnetico non ha sorgenti isolate, l'equazione che lega il flusso del campo magnetico attraverso una superficie chiusa alle sorgenti dà sempre un valore nullo, perché il polo magnetico non c'è. Se quella superficie contenesse un polo magnetico, il flusso sarebbe diverso dal zero, ma non è così. In generale le linee di campo magnetico sono curve chiuse, per cui tante linee di campo entrano in una superficie, tante ne escono, superficie chiuse. E quindi il flusso in generale all'interno, attraverso la superficie, sarà globalmente nulla. La terza equazione riguarda l'induzione elettromagnetica e anche in questo caso l'equazione di Maxwell relativa a questo effetto è esattamente identica a quella di fare dei Neumann Lenz, cioè la forza elettromotrice che si viene a creare lungo un percorso chiuso, quindi l'integrale di linea, o meglio la circuitazione del campo elettrico, è esattamente uguale all'opposto, legge di Lenz, della derivata temporale, cioè di quanto rapidamente cambia il flusso del campo magnetico attraverso una superficie aperta, attenzione, che abbia il circuito della circuitazione come bordo, una qualunque superficie aperta che abbia quello come bordo. E questo cosa significa? Significa che se, guardate bene la figura, se io ho una regione dello spazio lungo la quale ho un campo magnetico che cambia nel tempo, in una, lasciatemi il termine piano o direzione perpendicolare all'asse del campo magnetico, creo, produco un campo elettrico, che in questo caso ha linee di forza circolari, perché la circuitazione è lungo questo percorso chiuso, quindi è un campo non conservativo. Questo l'abbiamo usato anche per generalizzare la legge di Kirchhoff sulle maglie, per inglobare questo effetto. La ultima equazione di Maxwell, che è quella che richiedeva un aggiornamento, una generalizzazione, riguarda la circuitazione del campo magnetico. La legge di Ampere, così come l'abbiamo vista, è legata alle correnti di conduzione, cioè le correnti fisicamente prodotte da cariche in moto. Maxwell ha introdotto un altro termine, legato a un ente fisico che si comporta come una corrente, cioè che produce circuitazione del campo magnetico, ma che non è legato a cariche in moto, è legato a una variazione del flusso di campo elettrico attraverso una superficie. E questa corrente, questo speciale tipo di corrente, prende il nome di corrente di spostamento, e a quel punto lì l'equazione sulla circuitazione del campo magnetico, vede la presenza di non più uno, ma due termini. Uno legato alla corrente di conduzione, questo IC, sempre concatenata, cioè sempre corrente che attraversano superfici il cui bordo è il percorso di calcolo, lungo cui calcolo la circuitazione di B, più un termine che è la derivata temporale, cioè quanto rapidamente cambia il flusso del campo elettrico attraverso una analoga superficie. Quindi nelle regioni di spazio nelle quali ho una corrente di conduzione prevalrà il primo termine, nelle regioni di spazio dove non ho corrente di conduzione ma ho un flusso di campo elettrico variabile, prevale il secondo, o addirittura il primo neanche non c'è, come nella zona tra i due piani del condensatore. è chiaro il senso, non è un concetto facile da afferrare la corrente di spostamento, ahimè, però di fatto produce quell'effetto, di fatto si comporta come se ci fosse una corrente elettrica, ma l'effetto è prodotto non da carica e moto, ma da un campo elettrico variabile. Quindi, altro, se volete interpretazione in due parole, ogni volta che ho un campo elettrico che cambia nel tempo, in una determinata direzione, perpendicolarmente a quella direzione, ho un flusso, ho un campo magnetico che ha linee di forza circolari che circondano, che sono in un piano perpendicolare alla direzione nella quale il campo elettrico cambia, attenzione. Se avessi campo elettrico qui fisso, costante nel tempo, non avrei nessuna circuitazione, perché questa derivata mi darebbe zero. Quindi quando il mio condensatore è stabilmente carico, questo effetto non ce l'ho più, non ho più un campo magnetico, ho solo un campo elettrostatico. Questo effetto lo sottolineo perché mi serve a breve. Quindi, 4 equazioni, 2 sul flusso, 2 sulla circuitazione. Questa è la loro formulazione generale in termini di integrali, quindi di formulazione non locale. A breve ne vediamo una locale, cioè dove le integrali non ci sono più, ci sono solo derivate. Questa è quella che normalmente si trova nei testi del liceo. 2 per il flusso, 2 per la circuitazione. Se queste, che descrivono tutte le proprietà del campo elettrico e magnetico, le abbino, le affianco alla equazione di Lorenz, che mi dice qual è l'effetto del campo elettrico e magnetico sulla carica, cioè quello di produrre una forza, ho la descrizione completa di tutti i fenomeni che coinvolgono cariche elettriche a qualsiasi titolo. Quindi cariche elettriche che si muovono, che non si muovono, che producono campi magnetici, campi elettrici e via dicendo. Tutti gli effetti elettromagnetici dove vengono coinvolti campi e cariche sono tutti qua dentro. Tutta l'elettrotecnica è tutta qui e il fondamento è anche dell'elettronica in realtà, che è la premessa per. Vediamo un caso particolare dell'equazione di Maxwell, quella nel vuoto, cioè dove non ho né cariche né correnti di conduzione. Quindi si azzera il flusso del campo elettrico, si azzera quel campo elettrico che lo era già prima e nell'equazione della circuitazione di B non ho più la corrente di spostamento, di conduzione, ho solo quella di spostamento. Qui, dal punto di vista formale e matematico, è abbastanza evidente vedere il ruolo simmetrico, molto simile, che giocano il campo elettrico e il campo magnetico. Questo messaggio cosa vi dice? Vi dice guarda che quello che tu chiami campo elettrico e campo magnetico in realtà sono due oggetti estremamente connessi, specialmente quando le cose cambiano nel tempo, perché nelle prime due equazioni, quelle del flusso, i due campi sono separati, li mescolano le ultime due equazioni. Quando il campo elettrico e magnetico cambia nel tempo comporta la creazione dell'altro campo. Quindi in realtà i due sono talmente avvinghiati da non poterli distinguere quasi. Per cui nasce il concetto di campo non elettrico, non magnetico, ma elettromagnetico. I due campi sono due aspetti diversi, se volete, ma dello stesso campo. Sono due manifestazioni dello stesso principio fisico, dello stesso ente. Questa affermazione spero di riuscire a richiamarvela a breve, dove vi renderete conto, spero in modo molto più evidente, molto più chiaro, del perché questi due campi sono in realtà uno solo. Su questa frase è fondata una rivoluzione scientifica, attenzione. Come interpretiamo questo? Qui c'è la chiave di volta. Qui, in questo quadro, abbiamo unito, Maxwell non abbiamo unito, Maxwell ha unito elettricità e magnetismo in un'unica interazione, l'elettromagnetismo. Se sfruttiamo le equazioni che abbiamo appena visto, immaginatevi avere un sistema dove ho una corrente in moto accelerata, in moto variabile. Queste producono un campo magnetico, per sua natura quindi variabile. Ma un campo magnetico variabile, abbiamo appena visto che perpendicolarmente alle sue linee di forza, produce un campo elettrico variabile, con linee di forza chiuse, legge di fara dei Neumann-Lenck, circuitazione di B. Per cui è un campo elettrico variabile perpendicolarmente a B. Ma anche se questo è variabile, produce a sua volta un campo magnetico variabile, nel suo piano perpendicolare. Questo dal punto di vista grafico, intuitivo, se volete, è il primo passo verso l'idea che le variazioni, quindi perturbazioni nel campo elettromagnetico, si possono propagare nello spazio, è una perturbazione che si propaga nello spazio, in fisica si chiama onda. Vediamo se è così. Vediamo uno dei più importanti risultati della fisica teorica degli ultimi tre secoli. Il lavoro di Maxwell nel prevedere l'esistenza delle onde elettromagnetiche. Entriamo nella mente di un genio, letteralmente. Vediamo come ha ragionato, o quantomeno un percorso che ci conduce a sui risultati. Ok? È tutto chiaro fin qua? Dopo ritorneremo a questa presentazione. Adesso ho bisogno di un'altra. Sì, certo. Allora, un istante solo, gli rimando lo schermo. Ok. Adesso dovrebbe arrivare. Vediamo se riusciamo. No, io non volevo questo. Esploriamo, nei limiti del possibile, il percorso che va dall'equazione di Maxwell all'affermazione dell'esistenza delle onde elettromagnetiche. Venuto il giorno. Allora, ripassiamo velocissimamente che cos'è un'onda. Qui avete un esempio di onda di superficie, le onde del mare. Ok? Le onde sono perturbazioni in una situazione di equilibrio, altrimenti di equilibrio, cioè fate conto di avere la superficie del mare piatta, e se ci cade qualcosa sopra o se il vento la colpisce, la quota di acqua del mare viene alterata, viene disturbata, viene perturbata. Questo disturbo si propaga nello spazio. Questo disturbo che si propaga prende il nome di onda. Le onde trasportano normalmente, le onde, almeno le onde nella fisica classica, trasportano energia, ma non trasportano materia. D'accordo? Le onde in campo quantistico trasportano anche materia, per questo faccio questa differenza. E normalmente l'onda presenta un profilo, qui c'è un'onda armonica, un'onda sinusoidale, che si sposta nello spazio. Quindi posso immaginare un punto che oscilla quando viene attraversato dall'onda, ma anche il profilo dell'onda che si sposta. Il punto, tra virgolette, che mi individua a quale punto del profilo dell'onda sono, è una grandezza che si chiama fase. Le onde normalmente si presentano di due grandi famiglie. Le onde trasversali, dove ciò che oscilla, ciò che è perturbato, è perturbato in una direzione perpendicolare a quella del moto, come quelle qui a sinistra. Oppure le onde longitudinali, le onde dove la perturbazione e l'oscillazione avviede nella stessa direzione di propagazione dell'onda. Qui lasciamo stare, c'era un filmatino, ma non so se ho tempo di vederlo. Il profilo dell'onda, cioè la struttura temporale e spaziale dell'onda, viene chiamata funzione d'onda. Qui ad esempio c'è un impulso, un'onda a impulso. Quindi questa è un'onda non periodica, una perturbazione limitata nel tempo e nello spazio che si può propagare. Questo è un profilo piuttosto particolare. Se invece ho un disturbo periodico, ho un'onda progressiva, cioè un'onda che si sposta nello spazio, che è periodica, che si ripete a intervalli regolari. Qui abbiamo un'onda di tipo sinusoidale, quindi un'onda armonica, perché la perturbazione è di tipo armonico. Le perturbazioni sono armoniche quando l'accelerazione con cui si oscillano le superficie della corda qui perturbata è proporzionale con una costante negativa alla sua posizione, come nel moto armonico. Questo è un profilo tipico di un'onda armonica, una sinusoide e una cosinusoide. Quello che abbiamo sulla X è una grandezza che si usa per graficare l'onda e ha il ruolo, siccome l'onda è, in questo caso, per esempio sinusoidale, posso calcolare il seno e il coseno e tutte le funzioni goniometriche di angoli, proprio perché sono funzioni goniometriche. Non posso calcolare il coseno di una lunghezza, posso calcolare il coseno di un angolo. Quindi se voglio qualcosa, se voglio mettere una lunghezza dentro la funzione coseno, devo trasformare quella lunghezza in una grandezza fisica analoga che però sia un angolo. Quella è la fase, che non sempre è un angolo, se io ho le onde del mare che oscillano, non c'è nessun angolo, però la quota si comporta come se fosse un angolo, o meglio è legata a una grandezza che si comporta come un angolo. Per non chiamarlo angolo, perché angolo non è, si introduce il termine fase. La fase mi serve per capire a che punto del profilo della mia onda sono. Detto proprio che più tempo semplice non ci può. Se immaginiamo che questa sia la nostra onda del mare, che si propaga magari verso destra, e immaginiamo di fare uno scatto istantaneo, allora la fase sarà una funzione della posizione, a seconda di dove mi trovo, avrò una fase o un'altra. La fase è vincolata a rispettare le proprietà della funzione seno, cioè la funzione deve riproporsi nella stessa configurazione ogni periodo che è 2 pi greco per il seno. Quindi la fase sarà legata a 2 pi greco volte la posizione in unità della lunghezza d'onda, lambda. La lunghezza d'onda è la distanza spaziale tra due picchi, quando veloce perché queste cose sono cose che abbiamo già visto l'anno scorso usando le onde. Quindi questo è il profilo della funzione d'onda che avrei in un dato istante. Se poi vado a lasciare che quest'onda si propaghi nello spazio, quindi che si sposti, devo coinvolgere anche il tempo, perché la posizione, la fase in una data posizione, cambierà a seconda del tempo. D'accordo? E quindi la fase generale che ti è in conto sia della posizione e dell'istante di tempo assume questa caratteristica, questo è facile arrivarci semplicemente facendo una traslazione dell'onda. Quindi in generale la funzione d'onda assume questa forma. È una grandezza costante che è un'ampiezza a grande che dice quanto intensa è la mia onda per, scusate, una funzione che è periodica, come per esempio un seno o un coseno della fase. E la fase è fatta di due parti. Una spaziale, K volte X, dove K si chiama numero d'onda, quindi è 2π diviso la lunghezza d'onda. Meno ωt, dove ω è la pulsazione, 2π diviso il periodo, T grande, cioè il tempo impiegato per fare un'oscillazione completa. D'accordo? Però sono possibili anche, questa è una onda elementare, una onda armonica, semplice. Posso sovrapporre più onde armoniche, posso sovrapporre o può fare profili d'onda che non siano armonici, ma solamente periodici. In ogni caso, avrò una forma d'onda che dipende da θ, dalla fase, e la fase sarà sempre espressa in questo modo. Ok? Se l'onda si propaga con velocità costante. Questa è la fase di un'onda progressiva con velocità lungo l'asse delle x più b. Se qui ci fosse un più anziché un meno al posto di x davanti a ω, avrei un'onda regressiva, cioè un'onda che si muove sempre lungo l'asse delle x, ma nel verso opposto. Qui vi chiedo uno sforzo intellettuale, perché abbiamo bisogno di uno strumento che non avete ancora mai visto, che è la derivata parziale. Se ho una grandezza che dipende solo da una quantità, abbiamo visto fino adesso che avete trattato funzioni di un'unica variabile, da x, allora se faccio la derivata rispetto alla x, ho una derivata totale, perché la mia grandezza dipende solo da x. Nel nostro caso, invece, abbiamo una funzione d'onda che dipende dalla posizione x, ma anche dal tempo. Ho due variabili. E posso immaginare di derivare la mia funzione rispetto all'una variabile oppure all'altra. La derivata parziale che come viene intesa è la derivata che ottengo facendo variare una grandezza e tenendo fissa l'altra. Non importa dove, basta che non cambi. Quindi, se ho una funzione di due variabili, la derivata che ottengo tenendo costante il tempo, per esempio, è la derivata parziale della mia funzione rispetto a x. ovviamente posso fare anche l'inverso. Posso considerare la derivata parziale della funzione rispetto al tempo tenendo fisso la posizione. Fisicamente cosa significa? Se ho la mia onda che arriva, posso decidere di mettermi in una certa posizione dello spazio e osservare il moto della superficie dell'acqua. In quel punto io avrei l'accelerazione in termini temporali, cioè quanto rapidamente cambia la fase dell'onda in quel punto. Oppure posso dire fotografo la mia onda, quindi fisso il tempo e vado a vedere la dipendenza spaziale della fase dell'onda a seconda che mi sposto più a destra e più a sinistra nella posizione della quale mi trovo. Quelle sono le derivate parziali che intervengono tutte le volte che ho qualcosa che dipende da più di una grandezza. Come in questo caso la funzione d'onda dipende dalla posizione e dal tempo. In realtà nello spazio ordinario al posto della X dovrei avere tre coordinate perché la funzione d'onda potrebbe dipendere dalla posizione spaziale in X in Y e in Z. Quindi in realtà devo considerare quattro coordinate tre spaziali e una temporale ma per adesso li mettiamoci solo alla X. D'accordo? Posso derivare la funzione d'onda tutte le volte che voglio. Se lo faccio due volte se osservate bene se derivo una volta avrò K volte rispetto a X K volte A per il coseno della fase. Usiamo la derivata di funzioni composte. Se derivo un'altra volta avrò un altro K col segno meno quindi ho meno K quadro per A seno della fase. Quindi essendo una funzione armonica ho due volte il K quindi ho meno K alla seconda per F che è quello che è il comportamento tipico di un fenomeno armonico. Ok? Lo stesso vale per il tempo solo che stavolta la costante al quadrato non sarà K ma sarà ω quadro perché derivo rispetto a T. In sostanza se metto insieme le due posso facilmente rendermi conto che le due derivate seconde parziali rispetto alla posizione e rispetto al tempo hanno un rapporto ben definito sono una un numero costante un multiplo costante dell'altra e questo multiplo costante non è altro che l'inverso della velocità al quadrato dell'onda V questa V sotto è la velocità dell'onda la derivata seconda rispetto alla posizione della funzione d'onda è uguale a 1 su V quadro per la derivata seconda temporale della stessa funzione questa equazione si chiama equazione di D'Alembert è quella che caratterizza tutte le onde tutte le onde qui abbiamo preso l'esempio di quella sinusidale ma in realtà questa è la funzione d'onda ogni volta che ho qualcosa che rispetta questa caratteristica ne deduco che ho a che fare con un'onda con un'onda progressiva un'onda che si propaga nello spazio ok eccola qua questa è l'equazione d'onda noi ci siamo arrivati per via semplificata in diretta partendo dal risultato ricostruendo l'equazione da cui viene in realtà si può arrivare per via diretta è chiaro che questa è un'onda piana che dipende solo dalla coordinata spaziale x se avessi un'onda in tre dimensioni dovrei considerare le derivate parziali rispetto a x a y e anche a z ok questa è l'equazione completa che da che descrive un fenomeno fisico questa f che descrive un'onda quindi una perturbazione che si propaga nello spazio d'accordo andiamo a vedere qui salto perché non abbiamo tempo di fare di lungarci in questo se no non finisco in questa lezione andiamo a vedere che cosa possiamo dire delle dedurre ecco dalle equazioni di Maxwell che abbiamo visto qualche istante fa queste sono le equazioni in presenza di cariche e di correnti di condizione lavoriamo nel vuoto nel quale le cariche le condizioni non ci sono e consideriamo una particolare configurazione fisica in cui per esempio il campo elettrico dipende solo da una coordinata spaziale solo dalla x ok questo equivale a considerare un'onda elettromagnetica piana dove la fase è la stessa lungo qualunque piano perpendicolare all'asse delle x d'accordo e consideriamo appunto le nostre onde elettromagnetiche le onde scusate le nostre equazioni di Maxwell nel vuoto qui le ho riscritte immaginate appunto di avere questo campo elettrico che è il campo magnetico che dipendono solo dalla coordinata x e applichiamo la prima equazione quella del flusso qui abbiamo una superficie particolarmente semplice che è un parallelepipedo o un cubo se preferite d'accordo e calcoliamo il flusso attraverso questa superficie chiusa attenzione all'interno di questa superficie è riuscita a vederla bene non ci sono cariche quindi il flusso sono già sicuro che è zero ok se il campo elettrico dipende solo dalla x sulla faccia vedete questa è la faccia numero 1 dietro ho la faccia numero cos'era la 1 e qui nell'altro come la chiamano non c'è scritto su questa faccia il campo elettrico ha un valore nella faccia di matriamente opposta il campo ne ha un altro invece su tutti i punti di questa faccia il campo è lo stesso perché non dipende né da x né da y né da z ma solo da x quindi nella faccia posteriore quella più a sinistra è x quella superiore quella più a destra sarà x nel punto x più delta x delta x è il lato del mio parere l'epipedo lungo l'asse dell'e x d'accordo se calco il flusso attraverso questa superficie avrò che il flusso sarà l quadro che è l'area quindi immaginate un quadrato di lato l l quadro è quest'area quest'area più in grigietto per il valore del campo elettrico calcolato su questo bordo cioè nella posizione x più delta x al tempo t il lato opposto produrrà un flusso opposto qui il campo elettrico il vettore uscente della superficie diretto come meno x per questo ho questo meno l quadro è l'area della faccia e x è il campo elettrico lungo l'asse dell'e x nella posizione che in questo caso è questa qui dove trovate questo questo esterno di asse quindi faccio la differenza tra il flusso nella faccia nel nostro caso più a destra e quella più a sinistra nelle altre facce le altre facce il flusso è 0 perché il campo elettrico è diretto solo lungo l'asse delle x quindi là non c'è campo ok ne deduco che usando l'equazione di gauss il flusso è 0 posso semplificare per l quadro e da questo osservo che il campo elettrico sulla faccia di più avanti quella più indietro lungo l'asse delle x non può cambiare cioè questa differenza è 0 questo cosa significa? significa che in base alle equazioni di Maxwell per un campo che dipenda solo da x ok le equazioni mi prevedono che non può esserci fluttuazione cioè perturbazione nella stessa direzione delle x quindi se ho un'onda che dipende solo da x quindi che si propaga lungo l'asse delle x lungo quell'asse non ho fluttuazioni morale della favola le perturbazioni nel nostro campo elettrico sono onde trasversali cioè la perturbazione avverrà perpendicolarmente alla direzione del moto ok e quindi siccome non c'è perturbazione lungo l'asse possiamo anche assumere che lungo quell'asse il campo sia 0 per semplicità la stessa cosa possiamo fare per il campo magnetico ma passiamo invece alla circuitazione del campo elettrico e prendiamo lo stesso cubo di prima e prendiamo un percorso di questo tipo lungo una delle facce delle 6 facce del parallelepipedo ok qui c'è più in grande quindi abbiamo due percorsi orizzontali e due verticali d'accordo? il nostro campo in questo caso è la componente y del campo che dipende comunque solo da x ricordiamoci bene qui sale e qui il percorso scende quindi qui la circuitazione è nello stesso verso del campo e qui è nel verso opposto mentre nei due tratti orizzontali in questo e in questo la componente y per esempio è perpendicolare al percorso quindi qui da circuitazione nulla perché il campo è perpendicolare al tratto lungo cui mi sposto quindi la circuitazione di E lungo quel percorso vale i valori dei campi elettrici lungo l'asse delle y qui col segno più e qui col segno meno calcolati a destra nella posizione x più delta x a sinistra nella posizione x e basta quella precedente dentro di una differenza delta x piccola per cui ottengo che la circuitazione cosa mi dà? mi dà che un valore pari a la differenza tra i campi in x più delta x e in x è moltiplicata per la lunghezza l ok? questa differenza cioè la differenza tra i due campi posso esprimerla ricordatevi il differenziale che avete visto nel corso di analisi come la derivata parziale del campo lungo l'asse delle y derivata rispetto a x per delta x questo è un differenziale ok? se poi lo moltiplico per l come abbiamo visto prima ottengo la circuitazione quindi al posto della circuitazione posso usare questa grandezza la derivata della componente y del campo rispetto a x per l delta x lo stesso posso fare con il campo magnetico ne ottengo esattamente la stessa cosa solo che se vi ricordate che nella nella legge di fare di normalenza ho la circuitazione e il flusso del campo allora per il flusso del campo vediamo se ho una figura no immaginate di zoomare questa il campo lo prendo prendo un valore medio all'interno di questa faccia quindi prendo il campo b lungo l'asse delle z perché solo quello ha componente che dà flusso in un punto medio cioè x più delta x mezzo in t moltiplicato per l'area della mia superficie di cui faccio la circuitazione che è l delta x ok quindi dall'equazione di faradino in manlenza ottengo che la derivata parziale della componente y nel campo rispetto a x per l delta x vale l'opposto della derivata temporale del campo b medio nel verso delle z sulla faccia che abbiamo considerato sempre per l delta x che a questo punto posso semplificare posso buttare via l delta x a destra e a sinistra se semplifico per quello ottengo che la derivata parziale della componente y del campo vale l'opposto della derivata temporale della componente b media su quella faccia se faccio un limite per facce sufficientemente piccole quindi quando delta x tende a 0 ottengo che la componente y del campo dipende da x cioè la sua derivata rispetto a x come l'opposto della derivata temporale del campo lungolasse delle z nella stessa posizione questa solo per queste componenti è la forma differenziale delle equazioni di Maxwell che coinvolgono qual è la differenza è che quelli integrali coinvolgono campi su zone estese quindi non locali la forma differenziale coinvolge campi derivati ma tutti nella stessa identica posizione e quindi sono tra virgolette più facili da gestire più precise anche se hanno lo stesso significato ok posso ragionare nello stesso modo per tutte le altre componenti del campo e anche per l'equazione di Ampere finché arriviamo non ti ripeto tante volte lo stesso tipo di ragionamento arriviamo a questa conclusione che ripeto non è altro che la forma dell'equazione di Maxwell ma vista in forma differenziale focalizziamoci sulla componente y del campo elettrico che è legata alla componente z del campo magnetico mettiamoci a queste due vedete che qui in queste due equazioni questa viene dall'equazione di Farad Neumann lenz e quella sotto dall'equazione di Ampere Maxwell e sono accoppiate accoppiano il campo elettrico nella direzione e il campo magnetico nella direzione perpendicolare d'accordo vediamo se riusciamo a ricavare da queste due equazioni un'equazione che coinvolga solo il campo elettrico o solo il campo magnetico non so che è dura ma vi prego di resistere possiamo far questo derivando due volte se derivo due volte rispetto a x il campo e y ok ottengo che la prima derivata mi dà l'opposto della derivata di bz rispetto a t dopodiché alcuni teoremi di analisi di analisi in più variabili mi permettono di scambiare l'ordine delle derivate quindi anziché fare prima la derivata temporale e poi quella spaziale faccio l'inverso prima quella spaziale e poi quella temporale in questo caso ci sono teoremi che mi garantiscono che lo posso fare ma la derivata spaziale di bz equazione di di ampere è y0 mi0 per la derivata di y rispetto a t e quindi qui direi rispetto a t due volte e quindi ho che la derivata seconda rispetto alla posizione del campo elettrico nella direzione y vale y0 mi0 il coefficiente nella corrente di spostamento dell'equazione di Maxwell per la derivata seconda temporale dello stesso campo e ottengo un'equazione analoga per tutte le componenti di e e di b ciascuna componente soddisfa un'equazione dello stesso tipo ma questo lo possiamo confrontare con l'equazione d'onda vista pochi minuti fa questo mi garantisce che la perturbazione conseguente alle proprietà descritte dall'equazione di Maxwell si comporta nel vuoto come un'onda perché le equazioni sono dello stesso tipo la derivata seconda rispetto a x del campo elettrico vale un multiplo y0 mi0 della derivata seconda temporale rispetto allo stesso campo questo significa che questo oggetto si comporta come un'onda la cui funzione è il campo elettrico e la cui velocità di propagazione è esattamente combinando le due 1 fratto la radice quadrata di y0 mi0 per curiosità andiamo a vedere quanto vale questo numero orpo ma è uguale al velocità della luce ecco io vorrei che immaginaste la l'emozione proprio letteralmente di chi per la prima volta si è reso conto che lavorando sulle proprietà elettriche e magnetiche della materia aveva trovato qual è la natura della luce fino a quest'epoca la domanda che cos'è la luce non aveva avuto risposta si sapevano leggi della riflessione rifrazione tutto quello che vuoi ma la domanda che cos'è la luce non aveva risposta la luce è un'onda elettromagnetica perché perché abbiamo appena dimostrato che la perturbazione nel campo elettromagnetico si comporta esattamente come un'onda qui c'è solo la sua velocità ma con strumenti adeguati strumenti matematici adeguati si possono riprodurre ritrovare tutte le leggi dell'ottica quindi Maxwell con le sue equazioni non solo ha unificato elettricità e magnetismo ma anche l'ottica tre pilastri della fisica di quell'epoca di tutti i tempi la luce è un'onda elettromagnetica la domanda che cos'è la luce ha per la prima volta la sua risposta intendiamoci non è quella definitiva ma è una prima risposta sensata quantitativa motivata la prima torniamo se posso un secondo indietro recupero quello che ho saltato prima le prime misure delle botelle della luce sono state tentate da Galilei che però non aveva la tecnologia per poterlo misurare la tecnologia era troppo povera la prima misura quantitativa concreta delle botelle della luce nasce tra l'altro da un problema di navigazione il più grande astronomo dopo Galilei che è Cassini che fu invitato in Francia il re di Francia poteva permettersi di finanziare ricerca scientifica come in Italia non era possibile poi Cassini ha deciso Cassini era di Bologna ha deciso di rimanere a Parigi ha cambiato anche nome in Giandomenico mentre si chiamava Giandomenico è famoso anche per aver studiato i Danelli di Sartorio e affida chiede a un suo allievo di studiare un metodo per stabilire la longitudine è quella di osservare le eclissi delle lune di Giove ma Romer il suo allievo si rende conto che la data di l'alora di inizio dell'eclissi di Giove cambia a seconda dell'anno e lui interpreta questo fatto dicendo certo perché se lo osservo in giugno che sono più vicino a Giove è un conto se lo osservo in dicembre che sono nel diametramente opposto nell'orbita terrestre la luce impiega più tempo ad arrivare sulla terra conoscendo la dimensione dell'orbita terrestre dividendo per questo spasamento temporale ha misurato la velocità della luce e ci è andato molto vicino poi ci sono misure più tardi non astronomiche di Polite Fisot con la famosa ruota dentata eccetera e la velocità della luce quindi era nota secoli prima di Maxwell e quindi immaginatevi lo stupore e l'emozione di ritrovare lavorando con l'elettromagnetismo la velocità della luce e quindi mi trovo davanti a un'equazione che mi dice la luce è fatta di campi elettromagnetici variabili che si propagano come un'onda qualche anno dopo uno studente a quell'epoca di fisica di Monaco Frank Hertz costruisce un apparato simile in laboratorio e riesce a produrre onde elettromagnetiche e a rivelarle dei laboratori a distanza di pochi metri però sufficienti a provare la realtà fisica di quella perturbazione e a dimostrarne proprietà come la riflessione eccetera ok per cui le onde previste su elettromagnetiche previste con carta e penna trovano un riscontro nel mondo reale pochi anni dopo e sono alla base di tutta la nostra tecnologia delle telecomunicazioni vediamo se riesco a dirvi ancora qualcosa ecco qui avete un filmato ve lo mostro rapidissimamente qui c'è una carica elettrica se la spostiamo questa è una simulazione del FET se l'acceleriamo vedete come le linee di campo elettrico si deformano e quella deformazione è quella che abbiamo studiato nell'equazione di prima che si propaga come un'onda elettromagnetica qui per esempio c'è una perturbazione sinusoidale qual è il problema il problema è che abbiamo un grosso vantaggio dal punto di vista formale abbiamo unito tre capitoli di fisica enormi ma questo non va d'accordo con un altro capitolo della fisica con la meccanica crea un paradosso di questo paradosso che è la radice della teoria della relatività ci occuperemo lunedì però oggi mi fermo qua è un po' Grazie.